Ho sempre vissuto per quel momento, quando sentivo i muscoli gonfiarsi e poi esplodere mentre il vento soffiava più forte. Barenne! Barenne che va a vincere! Su un po' di gole ci vedrà giù un po' e questa volta non ce n'è per nessuno. Giampaolo è come me. Ho avuto subito l'impressione che sapesse capirmi più di chiunque altro. Nessuno voleva perdersi la sfida tra me e il grande Viking Kronos. Beh, com'è andata lo sapete. Barenne che va a dominare fino al palo davanti a Vigliano Frenz. Vidar, Viking Kronos. Io, come ambasciatore dell'Impica Italiana, perché no? Ero il cavallo da battere e quel ruolo era perfettamente cucito addosso al mio mantello. Putta la pasta, mamma! E siamo campioni nel mondo! In una stagione avevo vinto il Grand Prix d'America, in Olteria, le Little Hoppet e le Breeders. Ma non ero sazio. Non lo ero mai. Le foto e le pacche mi ricordano i momenti d'oro che nessuno sembra aver dimenticato. Per forza, io sono il Capitano. Io sono Barenne. Ombra a Barenne. Ombra a Barenne. Ombra a Barenne. Grazie a tutti.